Musica Sì, 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 probabilmente dopo però se le fanno le premiazioni a questi lì, di solito le fanno tutte insieme all'ultimo, quindi le fanno le premiazioni, a meno che le voglio premiazioni in questa occasione qui, allora le prendono, le prendono in la macchina, si affidano in campo, le braccia e torno. Sì, 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 ma tanto gli ruotano, guarda, poi anche la Chiara gli esami telefonati dice, eh, dice, ci bisogna un esame, no? Tutti ci sono in un'altra parte, a limite del momento lascia, eh, ma dice, dopo le immagini di premiazioni, non lo so come funziona di solito, la premiazioni, l'anno indietro l'hanno fatta, dopo le legge tutti insieme, però non so se magari la fanno prima e comunque la fanno... Per le 13, fanno sicuramente l'intervista a Graziani, fanno anche l'immagine, se giocano, perché probabilmente se giocano, giocano lì in campo da calcetto, quello là di dietro, quindi è impossibile che sia lì, e quindi gli ho detto a me che fai quello che devi fare, e poi a dire che ho, ma lì per recuperare la telecamera, quindi, per genuina, andrà a rifiare da giornini, se no, e ne va a fanno grande, tanto oggi, di là, fanno solo le finali, ma lì, fanno le partite, non le partite, non le partite da oggi pomeriggio, alle tre tre, quindi, se non vanno per le lombie, le c'è anche finito, ogni cosa. Va bene, va bene, va bene, niente, allora, buone vacanze, va bene, niente, allora, buone vacanze, se lo rompe tanto le quali, sta in vacanza, anche se no, se non vanno a casa, non si risponde, alla terza telefonata, non si risponde, va bene, già non risponde, poi, senti, che lo dichiaro prima, quindi così, almeno, va bene, va bene, dai, ci aggiorniamo, ok, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bravo, Marco, bravo, marxo. il russo Grazie. 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 Bravo. 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 Oh. Ok. Si metta. Si metta. Dai. 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 Dai che stanno. No. Noi. Noi. Vai. Noi. Noi. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.